Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Sergio Barzetti, noto chef del programma televisivo di Antonella Clerici è sempre mezzogiorno, è stato vittima di un'aggressione in strada. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì, mentre Barzetti stava caricando un furgone vicino al suo ristorante. Secondo quanto riportato dall'avvocato Carlo Alberto Cova, l'aggressione è stata perpetrata da un uomo e una donna, già noti per comportamenti simili. I due lo hanno inizialmente insultato e successivamente l'uomo lo ha colpito con dei pugni, il tutto davanti a diversi testimoni. Fortunatamente, le lesioni riportate dallo chef sono lievi e guaribili in sette giorni, e sarà presentata una denuncia. L'aggressore, un cittadino di origine nordafricana, ha anche filmato l'incidente. Barzetti ha dichiarato che non è la prima volta che affronta situazioni del genere, avendo già ricevuto minacce ed essendo coinvolto in processi per stalking come parte l'ESA. Questo episodio, tuttavia, è stato particolarmente grave poiché è avvenuto mentre stava concludendo il lavoro al ristorante. Nonostante l'accaduto, Barzetti ha affermato che continuerà a lavorare, anche se ha deciso insieme al suo staff di anticipare le vacanze e chiudere il ristorante in anticipo.